buongiorno a tutti grazie benvenuti intanto grazie di essere affluiti diciamo in questa sede per quanto riguarda ai presenti e grazie a chi è collegato a distanza come sapete stiamo andando anche in streaming quindi per l'attenzione posta a questa mattinata inizio perdo chiedendo scusa per qualche minuto di ritardo ma insomma ci siamo un po rodati manca ancora uno dei discussant ma a questo punto diamo comunque parte diamo comunque via all'inizio della mattinata all'inizio dei lavori perché comunque non vorremmo sforare oltre il tempo programmato io occuperò pochissimo tempo una parte del tempo dovuta ma molto sentita è ovviamente di ringraziamento in primo luogo di invarsi che ha accettato diciamo l'invito a venire in università cattolica e l'idea di montare mettiamola così una mattinata di seminario su un tema poi dirò una parolina in più molto veloce che corrisponde ad un'attività di ricerca che invarsi ha avviato in realtà da molto tempo poi per questi ultimi aspetti da un po di tempo e che sarà poi l'oggetto in qualche modo della presentazione della discussione del lavoro di questa mattinata grazie a tutti della persona ovviamente in primo luogo del presidente di invarsi dottor roberto ricci ecco io all'inizio faccio così poi l'abitudine chiamarci per nome quindi se mi permetti roberto presidente di invarsi e con lui ovviamente a tutto l'istituto e non si offenda nessun altro ma ovviamente ai relatori che per invarsi presenteranno questo lavoro stamattina la dottoressa patrizia falsetti patrizia che è responsabile del settore della ricerca valutativa in invarsi e a dottor marsili michele che è funzionario statistico e che è davvero la persona che poi ci mette mani in camice maniche di camice risvoltate e quant'altro che presenterà. Devo ringraziare ovviamente anche i colleghi che hanno accettato di darci diciamo il loro tempo e le loro competenze chiamati ad essere discussant di questa mattinata come vedete li presenterò poi dopo ma insomma non sono nomi che hanno bisogno di tutta sta presentazione quindi e come vedete l'idea è stata proprio quella di aprire un confronto e una discussione con persone competenti esperte di altissima competenza e valore appartenenti però a mondi disciplinari diversi ora perché il tema di là dalle tecnicalities poi che possono servire per questo quel tipo di elaborazione è un tema ovviamente che apre a 360 gradi su una tale varietà di questioni anche delicate e complesse che occorre avere anche vigilanza anche nel momento in cui poi si arriva a magari elaborare un indice ma è molto importante questa cosa ed è così che è stata voluta proprio questa mattinata. un ringraziamento va ovviamente a tutti i presenti che mi auguro a fine mattinata considereranno non perso il tempo passato qui ma quantomeno sufficientemente interessante e utile e lo faccio da subito devo ringraziamento ai miei colleghi del CERIFON quindi del Centro Studi e Ricerca sulle Politiche della Formazione dell'Università Cattolica che dirigo e che sono poi l'anima sia scientifica perché sono ricercatori alcuni colleghi anche professori docenti di questa università ma poi sono anche la manodopera organizzativa lo sappiamo come funzionano le cose in particolare dell'organizzazione di questa mattinata devo ringraziare particolarmente il dottor Marco Giganti che è quello che vedete là non lo vedete ma è là dietro sedeva poi Valdesk all'entrata e la dottoressa Laria Ravasi che sono state poi le persone che hanno permesso anche di seguire tutta la regia organizzativa di questo lavoro quindi fine dei miei ringraziamenti una sola parolina prima di passare la parola ai relatori sul perché fondamentalmente sul perché di questa mattinata una parte l'ho già detta mi metto un po' più il cappellino da professore di pedagogia quindi perché occuparsi di questi temi e perché occuparsene per il tipo di lavoro proposta che in questa situazione invarsi fa perché il tema dell'equità infatti non a casa abbiamo scelto questo titolo l'abbiamo scelto assieme per questa giornata è un tema che interpella tutti non fosse altro che è richiamato quando si parla di scuola è richiamato dalla nostra Costituzione che lo pone come un cardine fondamentale perché è un principio fondamentale della democrazia quindi perché è qualcosa che dice con estrema evidenza l'inscindibilità della scuola rispetto alla società nella quale è posta non solo perché ha il mandato dalla società di dare formazione e istruzione a tutti ma perché sappiamo benissimo che la dinamica del rapporto e i risultati anche quelli che invarsi e rileva tutti gli anni lo dicono anche in maniera abbastanza impietosa ma prendiamo in atto il rapporto tra scuola e società è un rapporto infindibile ineliminabile e purtroppo laddove non sia ben condotto ben governato ben accompagnato sappiamo che mette a repentaglio proprio il valore il principio dell'equità equità che però non è un obiettivo raggiunto questo lo sappiamo ma verosimilmente non sarà mai un obiettivo definito una volta per tutte proprio perché la società varia in continuazione e conseguentemente prendere le misure da parte della scuola per garantire un'equità con una società che nelle sue caratteristiche cambia nei suoi bisogni e anche nelle sue criticità è un lavoro continuo in questo aspetto si inserisce proprio il lavoro di invarsi che ha un lavoro in questa sede io non dico altro che perché non ne so altro gli esperti sono loro che cerca di capire attraverso quali possono essere gli strumenti attraverso cui addempiendo alle proprie missioni i propri compiti istituzionali in base a un ente pubblico di ricerca a cui la legge e il ministero ha affidato alcuni obiettivi specifici può fare quello che è chiamato a fare e cioè fornire dell'informazione il più possibile intelligenti utili valide solide che permettano di orientare le politiche scolastiche e non solo perché secondo me qua ci si allarga molto anche al campo delle politiche territoriali e quant'altro quindi l'inquadramento logico diciamo di questa mattinata sta all'interno di questa problematica che quindi non è appannaggio esclusivo di quello che ne sa di sociologia di quello che ne sa di statistica di quello che ne sa di è un interesse di tutti però la complessità vuole che non ci si limiti a parlarne sbandierando l'ideale dell'equità ma che si cerchi anche qui e ora di iniziare a fare dei lavori che permettano di cominciare ad avere degli strumenti tra le mani su questo sarete felici mi scuso per aver preso più tempo del necessario e sarete felici di sapere che ho finito di parlare e con molto piacere passo la parola direttamente al presidente di Il Varsi Roberto a te buongiorno a tutti e a tutte grazie Renata per questa opportunità e io credo che sia per noi dico noi come in Varsi ovviamente il nostro non è un problema di Estatis è molto importante condividere i risultati di questa attività di ricerca ma io credo che sia oltremodo importante parlare di questi temi in un ambiente accademico di appunto di ricerca perché io vedo diversi piani sui quali credo sia molto importante confrontarsi e l'equità è un tema che ha coinvolto sta coinvolgendo da diverso tempo la ricerca intesa in senso molto ampio sui risultati e sui risultati scolastici io credo che ci siano degli aspetti tecnici molto importanti oggi cercheremo di cominciare a parlare di questo ma poi questi strumenti queste dimensioni tecniche hanno bisogno di un quadro colto e sottolineo colto aperto libero nel ragionamento e di come intendere cosa che uso fare di questi di questi dati negli ultimi anni negli ultimi anni l'istituto ha cercato in un qualche modo di perseguire un obiettivo non unicamente questo ma principalmente questo cioè fare emergere attraverso i dati dimensioni che non sono facilmente visibili e che sono esse stesse anzi principalmente queste una fonte di forti differenze problemi e iniquità all'interno del sistema educativo rimane poi del tutto aperto io credo che questo debba essere un compito della ricerca in generale quindi l'accademia gli enti di ricerca e tutti coloro che si impegnano su questi fronti poi di proporre delle interpretazioni e avere anche il coraggio di sottoporre a verifica empirica per definizione non esaustiva le proprie posizioni le proprie le proprie convinzioni la dispersione scolastica è uno di questi esempi ma ne abbiamo ne abbiamo tanti altri ecco io credo che noi parliamo dell'Italia ma in realtà il problema è anche più generale del nostro del nostro paese sicuramente il affrontare il tema dell'equità sia molto importante ma anche con quella lucidità e con quella consapevolezza che l'equità non è alternativa al raggiungimento di obiettivi fondamentali del sistema scolastico che sono elevati livelli di apprendimento elevati livelli di apprendimento io credo che questo ce lo dobbiamo dire in modo molto molto chiaro il rischio di molta ricerca ce la prendiamo principalmente con noi ma tra di noi ce la possiamo dire è quello di intendere l'equità come una solta di alternativa al raggiungimento degli obiettivi principali di un sistema educativo è chiaro che una scuola moderna avanzata deva rivisitare il concetto di livello di apprendimento che per definizione è provvisorio ma rimane il punto fondamentale attraverso il quale osserviamo una società avanzata e che vuole avanzare e che vuole mantenere dei presidi di sviluppo che si basano sull'inalzamento della competenza scientifica dove per scientifica lo intendo in senso molto ampio del paese ecco se questo rischio c'è in tanti contesti anche internazionali pensiamo all'equità come l'obiettivo in sé senza tenere conto dell'altra parte della tessera del domino il rischio è altissimo quindi l'obiettivo di un indicatore di questo genere è cercare di mettere in luce in evidenza l'aspetto pluridimensionale multidimensionale del tema dell'equità ma avendo ben chiaro questo tipo di questo tipo di problema ecco io credo che questo sia la cosa la ragione per la quale siamo anche così felici di essere qua ed è un ringraziamento sincero e poi qui parlo come dire soprattutto a noi che facciamo questo lavoro meraviglioso di fare ricerca e lavorare su questi temi io credo che sia un altro tema importantissimo per tutti e di collocare la nostra attività di ricerca in una prospettiva di senso e qual è la prospettiva di senso intendo dire il l'aspetto metodologico che è affascinante uno come dire la tentazione in senso positivo del termine di ragionare sugli aspetti tecnici scientifici la modellistica è fortissima ed è bellissima perché inutile che ce lo diciamo ci piace tanto però non possiamo credo per chi fa il nostro lavoro soffrire di una sorta di eccesso di focalizzazione sul nostro ombelino e quindi serve io credo che chi fa la ricerca di questo tipo che mantenga anche questa prospettiva perché altrimenti e giusto per come dire farsi qualche amico rischiamo poi come sovente non esclusivamente ma giusto per puntare in alto spesso fa l'oxe che poi alla fine ci dice che la differenza dei risultati dipende da dove sei nato dal titolo di studio dei genitori qual è il tuo genere e poco altro e poi giustamente chi si deve occupare di trovare le soluzioni o provare a trovare le soluzioni perché in realtà di questo stiamo parlando dice d'accordo vabbè però non è che io di questo possa fare tanto ecco credo che la sfida la sfida e questo vuole provare ad essere un passo in quella direzione un passo in quella direzione sia di cercare di mettere a punto degli strumenti aperti dove per aperto intendo dire noi ci aspettiamo quando sappiamo di essere in un luogo estremamente garbato e gentile anche critiche con la carta vetrata a grana grossa cioè tra di noi dobbiamo dircele le cose che non funzionano ma assumere questa questa prospettiva altrimenti io credo che facciamo un'operazione profondamente iniqua perché scarichiamo tutto sulla scuola su chi quotidianamente ha il compito poi di realizzare quegli obiettivi e l'onere di trovare delle soluzioni è chiaro che noi e questo è un grande privilegio non facciamo politica ma siamo dei tecnici e quindi non spetta a noi adottare le politiche ma spetta a noi assumere anche la dimensione di trovare delle proporre soluzioni alternative poiché la legittimità sceglierà ovviamente tra le alternative o ne troverà delle altre però io credo che questo sia il compito che una ricerca la ricerca in campo educativo dando educativo un significato molto molto ampio e abbia oggi più molto più molto più di ieri le sfide che abbiamo di fronte una popolazione in fortissimo calo l'invecchiamento della popolazione la digitalizzazione il come dire strumenti che a volte come dire invochiamo e credo che possono darci grandissime possibilità ma non li possiamo guardare un pochino come con lo sguardo per quanto suggestivo e poetico del fanciullo perché poi la vita è un pochino diversa potrebbe essere un pochino diversa e dobbiamo anche immaginarci i possibili impatti e come gestirli sposando anche un principio di concretezza tenendo conto che le soluzioni che andiamo a proporre e di nuovo qui io come dire sono molto orgoglioso del lavoro che hanno fatto i colleghi perché io non ho alcun merito ma i ragazzi e le ragazze hanno fatto sono giovani quindi posso dirlo usarlo questo termine non li sto infantilizzando e il è un dato anagrafico il dicevo hanno secondo me messo il punto sulla come dire hanno focalizzato bene questo punto però ecco io credo che non possiamo immaginare delle soluzioni che non tengono conto anche del vincolo della sostenibilità delle operazioni che andiamo a proporre è comunque un sistema che deve servire ogni giorno più di 7 milioni di studenti in un paese indebitato fino al collo perché il nostro è un paese indebitato fino al collo e quindi non possiamo proporre delle soluzioni che poi abbiano dei costi insostenibili per la società perché anche questo quindi io insisto molto anche sulla dimensione della sostenibilità in tutti i sensi delle azioni pedagogiche questo è un altro tema ecco io credo che i dati ovviamente i dati di per sé non sono una buona idea tuttavia possono aiutare aiutarci a farci venire delle buone idee grazie io da tempo vado dicendo che più pedagogista di tutti i pedagogisti messi assieme si rovina da solo no no grazie perfetto passo la parola direttamente a Patrizia a dottoressa Franzetti buongiorno grazie grazie tante per l'opportunità e allora io faccio solo una breve introduzione per contestualizzare questo indicatore che abbiamo calcolato all'invalsi io in realtà i miei colleghi dell'ufficio statistico e le mie colleghe dell'ufficio statistico grazie alla mole di dati che abbiamo a disposizione mi sa che devi mandarlo avanti tu ok allora conoscerete immagino i compiti dell'invalsi gli obiettivi delle prove invalsi noi raccogliamo dati a livello sensuario anche a livello campionario dati che sono destinati a diverse a diverse finalità c'è una parte dedicata alla polisi una parte dedicata alle scuole quindi alla polisi delle scuole e una parte dedicata sia alla ricerca che al pubblico questi dati che abbiamo utilizzato per calcolare questo indicatore derivano in particolare dal fatto che l'invalsi fa rilevazioni sensuari e solo tramite delle rilevazioni che scendono nel dettaglio quindi a livello di singolo studente su tutta la popolazione solo in questo modo noi siamo in grado di avere dei dati così diciamo dettagliati per poter disegnare effettivamente e fotografare effettivamente il bisogno oppure lo stato del sistema scolastico in maniera granulare che poi ci permette di aggregarli grazie appunto alle varie tecniche che abbiamo l'altro l'altro diciamo vantaggio delle prove invalsi che parla e dialoga con diverse fonti di dati quindi noi abbiamo rilevazioni sensuali quindi lo studente viene localizzato all'interno di una classe che è localizzata all'interno della scuola ma la scuola è geolocalizzata e quindi si va a collegare a tutta una serie di altre informazioni provenienti ad esempio da altri progetti oppure dai ministeri ministero dell'istruzione ministero della ricerca potenzialmente anche con ministero del lavoro IMS eccetera se volessimo studiare come già stiamo facendo comunque le carriere degli studenti nel futuro la predittività dei dati invalsi in realtà questo lavoro nasce come voi sapete noi tutti gli anni presentiamo il rapporto nazionale in cui diamo una fotografia a grandi linee dell'Italia quindi magari per regione possiamo scendere a livello di provincia però in realtà quando vogliamo mettere in condizioni lo stakeholder quindi il ministero dell'istruzione nello specifico ma anche altri altri enti che possono aiutare le scuole a diciamo ad affrontare i problemi che hanno durante diciamo le loro le loro attività dobbiamo cercare di scendere a un dettaglio geografico un pochino più piccolo e questo indicatore cerca di rispondere ovviamente non è la risposta definitiva anzi ci aspettiamo dai discussant anche proposte migliorative questo è quello che con i dati attualmente siamo riusciti a fare e questa è una risposta per cercare di individuare delle aree un pochino più piccole dove poter intervenire da una discussione negli ultimi giorni con il presidente discussione anche molto accesa perché per questioni di privacy io e lui ogni tanto ci scontriamo uno dei diciamo delle possibilità noi adesso geolocalizziamo le scuole perché sappiamo gli studenti dove sono incardinati e quindi abbiamo la possibilità di sapere in quale edificio vanno a scuola purtroppo però sappiamo anche che c'è un movimento di studenti da casa alla scuola anche piuttosto ampio e siccome investire su territori dove sono collocate le scuole che è questo lavoro questo lavoro si basa sui territori dove sono collocate le scuole e quindi si presuppone che il bacino di utenza sia attorno a queste scuole ma questo non è assolutamente detto e la proposta del presidente che punta sempre a alzare la sticella era quella di andare a individuare la provenienza degli studenti in modo tale che i servizi possano essere messi a disposizione nei luoghi dove risiedono questi studenti quindi per poterli poi a fare quindi partendo da piccolini per poterli poi far approcciare alla scuola già con un minimo vantaggio in più ci sono problemi di privacy di cui abbiamo già discusso però saranno sicuramente non mi hai incubito ancora mi deve convincere il garante saranno superabili previa autorizzazione del garante però questo potrebbe aiutare a mirare ancora di più gli interventi su delle zone aiutando le famiglie perché molto spesso quando si parla del background familiare quindi genitori con una professione che ne so operai che stanno fuori tutto il giorno oppure un titolo di studio molto basso e non riescono a stare dietro agli studenti potrebbe essere di aiuto nelle zone dove gli studenti risiedono una rete per poter far fronte a quello che invece studenti provenienti da un background familiare più elevato già hanno di default dalle famiglie e quindi questo sarà una prossima sfida concentrandoci su questo noi abbiamo cercato di mettere insieme informazioni provenienti quindi da Istat dal ministero dell'istruzione al ministero della ricerca insomma una serie di informazioni cercando di individuare delle piccole aree un pochino più piccole su cui poter fare degli interventi questo perché come diceva il presidente prima la modellistica è sicuramente migliorabile e se ne discute in questi contesti quindi contesti scientifici dopodiché però ci dobbiamo anche calare nella realtà e tirare fuori delle informazioni che siano utilizzabili perché gli stakeholder i ministri vari coloro che devono prendere le decisioni poi con i nostri modelli ci fanno poco loro hanno necessità che da un articolo scientifico da una ricerca poi si passi a una traduzione in maniera divulgativa e utile per poter poi attuare le politiche e prendere le decisioni quindi noi ci siamo calati in questa realtà per identificare quelle aree un pochino più in difficoltà ma utilizzando diversi indicatori perché gli apprendimenti si sono sicuramente un indice della problematica ma ce ne sono molti altri che potremmo prendere in considerazione noi ne abbiamo ne proponiamo alcuni questo però non esclude che ce ne siano molti altri da prendere in considerazione che possano essere uniti ai dati invalsi per poter farlo. fotografare ancora di più la situazione sul nostro paese lascio la parola a Michele che entra un pochino più nel dettaglio grazie. Aspetta i tecnici. Allora come diceva Patrizia i primi due obiettivi del lavoro sono essenzialmente questi quindi grazie sfruttando il patrimonio informativo degli invalsi quindi in particolare i dati sensuari e diciamo integrando fonti dati di natura differenti provenienti da altre agenzie delle entrate come diceva Patrizia e il ministero dell'istruzione facendo delle unioni tra questi dataset e la peculiarità è proprio questa perché dal momento in cui si geolocalizzano le scuole si apre la possibilità anche di creare delle unioni tra dati di natura differenti tutto ciò che rientra nei sistemi GIS che poi vedremo più nel dettaglio ma anche al tempo stesso utilizzando delle chiavi dei dati tabellari per unire il dataset del ministero dell'istruzione con il dataset degli invalsi con i dati sensuari disponibili negli invalsi quindi facendo un riepilogo di quanto emerso da questa prima slide sicuramente l'obiettivo del lavoro è stato quello di costruire un indicatore composito che non tenga conto solo dei dati invalsi ma anche di altri aspetti sia sul contesto territoriale sia per quanto riguarda il contesto scolastico che per mission non raccoglie gli invalsi al tempo stesso superare cercare di superare il concetto di unità amministrativa e quindi diciamo non considerando una classica analisi per aggregato come quelle che presentiamo solitamente nei rapporti nazionali o nei rapporti tecnici che escono dal nostro istituto quindi per regione geografica per provincia o a volte anche con un dettaglio minimo ma superare questo concetto di unità amministrativa utilizzando dei dati georeferenziati e anche un altro sistema di zonizzazione che è stato possibile poi integrare con i dati georeferenziati per cercare quindi a partire da queste unità territoriali di trovare delle aree di intervento che non rientrino nelle classiche unità amministrative che siamo abituati a vedere diciamo nei nostri rapporti nazionali o nei nostri rapporti tecnici che escono fuori di solito dall'istituto e che pubblica l'istituto e sicuramente il terzo obiettivo è quello di analizzare a quel punto una volta avendo i dati all'interno di mappe di cartogrammi è più facile fare questo tipo di analisi quindi questo tipo di analisi territoriale individuare le realtà scolastiche poi vedremo come la piattaforma che abbiamo sviluppato consenta di fare questo lavoro in maniera più agile e in maniera più interattiva e individuare delle situazioni di difficoltà sia a livello di singola scuola e quindi di livello di singolo istituto scolastico ma anche possibilmente individuare delle reti di scuole quindi degli istituti scolastici georeferenziati sul territorio a livello cartografico caratterizzati da medesime condizioni di difficoltà su una o sulle più dimensioni che stiamo considerando all'interno di questo lavoro quindi diciamo sia per quanto riguarda gli apprendimenti ma non solo sulla dimensione degli apprendimenti ma anche su tutti quegli altri aspetti del contesto scolastico o del contesto territoriale che possono servire per descrivere meglio diciamo la realtà scolastica all'interno del territorio e per andare ad individuare delle scuole contigue caratterizzate da dei contesti simili e diciamo che sia la piattaforma dei dati e sia il sistema di unione delle scuole all'interno del territorio quindi l'utilizzo di questi modelli GIS ci hanno permesso di andare, offrono sicuramente un sistema per poter cercare di fare questo tipo di lavoro qui e quindi come parlavo in precedenza abbiamo uniti diversi dataset il primo dataset è quello dei dati invalsi e poi vedremo le dimensioni che abbiamo considerato nelle nostre fonti dati il secondo dataset che abbiamo utilizzato è quello del Ministero dell'Istruzione per disponibilità dei dati che avevamo a disposizione per fare questo lavoro qui abbiamo considerato gli ultimi tre anni scolastici quindi dal 2020-21 fino al 2022-23 e poi una terza fonte dati che è quella fornita dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate questa fonte dati si riferisce invece al secondo semestre del 2022 che era la fonte dati più aggiornata che avevamo a disposizione al momento in cui abbiamo avuto a che fare diciamo con questo lavoro qua e si pone diciamo l'obiettivo di andare a catturare delle variabili di prossimità che cercano di descrivere il contesto territoriale all'interno del quale gli istituti scolastici si trovano come si può ben interpretare i due primi due fonti dati non rientrano nell'ambito dei sistemi GIS di cui parlavo ma c'è semplicemente un codice scuola che funge come chiave questo codice scuola quindi ci permette di mettere insieme le scuole indipendentemente dall'ordine del grado quindi partendo dalle scuole primarie arrivando alle scuole secondarie di secondo grado e quindi di integrare i dati in VALPS insomma che poi vedremo più nel dettaglio quelli che sono stati considerati con altri indicatori che vengono raccolti e messi poi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione discorso diverso quindi invece per quanto riguarda poi l'unione tra i dati del Ministero dell'Istruzione ma quindi delle scuole e quelle dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate perché qui invece entriamo nel contesto dei dati GIS poi lo vedremo più nel dettaglio ma da una parte abbiamo le coordinate dell'Istituto ovviamente dessunte dalle informazioni presenti dal dataset del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'altra parte invece vengono messi a disposizione dei dati geografici poligonali cioè delle microzone quindi diverse dalle province diverse anche da altre forme di aggregati amministrativi che cercano però di catturare delle situazioni di omogeneità per quanto riguarda le quotazioni del mercato immobiliare e come dicevamo queste quotazioni del mercato immobiliare sono state poi utilizzate come indicatore di prossimità per descrivere il contesto territoriale nel quale le scuole si trovano e operano per vedere un pochino più nel dettaglio le dimensioni che abbiamo considerato all'interno delle diverse fontedate vediamo che per quanto riguarda gli invalsi sono stati presi in esame gli esiti delle rilevazioni nazionali quindi matematica, italiano e inglese reading e inglese listening l'indicatore di background socio-economico all'interno della scuola e poi abbiamo deciso di focalizzarsi su una delle dimensioni dell'indicatore di background socio-economico che pensavamo potesse essere descrittiva insomma di alcune situazioni di difficoltà e quindi abbiamo deciso di esplicitare di tirare fuori dall'indicatore SCS la professione dei genitori come dicevo in precedenza abbiamo considerato tutti i gradi scolastici che fanno parte insomma delle scuole che sono state prese in esame che sono sostanzialmente tutte le scuole sul territorio nazionale e quindi lo stesso indicatore se una scuola aveva sostenuto rilevazioni invalsi per più gradi scolastici sono stati considerati tutti i gradi scolastici che hanno sostenuto queste prove cosicché se una scuola ha sostenuto le prove in più anni scolastici dei tre anni considerati abbiamo deciso di considerare separatamente ogni anno scolastico questo per due motivi uno perché da una parte abbiamo cercato di rappresentare la complessità dell'istituto scolastico e quindi diciamo qualora ci fossero più ordini e più gradi all'interno del grado scolastico non volevamo che questa informazione venisse persa dall'indicatore che stiamo considerando e dall'altra considerando più anni e quindi allargando la dimensione l'analisi a una dimensione temporale abbiamo potuto individuare eventuali segnali ripetuti di situazioni di difficoltà che si perpetuano su più anni scolastici i dati del ministero dell'istruzione anche sono stati considerati per tutti gli anni presi in analisi e in questo caso che cosa stiamo andando ad aggiungere rispetto a quello che gli apprendimenti non ci dicono quello che queste dimensioni che vengono prese dal questionario studenti non ci dicono all'interno delle rilevazioni altre informazioni sicuramente che sono particolarmente descrittive del contesto scolastico come il tasso d'abbandono scolastico che non viene rilevato dalle rilevazioni in balzi ma va a completare il quadro che alcune cose alcuni indicatori come quello della dispersione implicita che stiamo considerando all'interno di questo lavoro ovviamente è strettamente legato al tasso di abbandono scolastico e quindi andiamo ad allargare il quadro per cercare di arricchirlo quindi costruire un indicatore composito che diciamo catturi più dimensioni indipendentemente dagli apprendimenti e poi il numero di iscritti negli anni scolastici intesa nella declinazione del nostro indicatore come variazione del numero di iscritti cioè quanti studenti si sono iscritti nel 2021-22 rispetto agli studenti iscritti per lo stesso grado scolastico e quindi magari per l'inizio del ciclo scolastico oppure per il passaggio tra la fine del primo ciclo del ciclo della primaria alla secondaria di primo grado e quindi quanti sono variati per quell'istituto il numero di iscritti tra un anno scolastico e l'altro poi il numero di giorni d'assenza e poi soprattutto è stato necessario prendere dalle fonti d'arte del Ministero dell'Istruzione del Merito che diciamo è lo stakeholder diciamo privilegiato verso questo lavoro quindi diciamo abbiamo individuato quelli che sono gli istituti che hanno probabilmente necessari per individuare gli istituti con indicatori di difficoltà alto quelli che era l'elenco istituti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dall'Agenzia delle Entrate invece abbiamo preso questo nuovo questo altro sistema di zonizzazione diciamo costruito per omogeneità del mercato delle condizioni del mercato immobiliare e abbiamo considerato poi come indicatore di prossimità del contesto economico dove la scuola si trova e dove la scuola opera e dove in alcuni casi anche gli studenti abitano il prezzo di compravendita degli immobili al metro quadro per determinate tipologie degli immobili come vedremo poi nel dettaglio giusto velocemente riprendendo il discorso privacy più che altro volevo dare questa dimensione per quale motivo noi possiamo utilizzare a volte questi dati e questi dati poi non possono essere dati all'esterno per ulteriori analisi sicuramente come avevamo visto nel primo grafico mostrato da diagramma mostrato da Patrizia i dati anonimizzati permettono ad altri ricercatori o ad altri enti di ricerca di andare a volte ad aggiungere informazioni anonimizzate e non identificabili quindi fare analisi ad esempio sui micro dati a livello sensuario e quindi diciamo previa presentazione di un'opportuna documentazione è possibile fare analisi sui dati sensuali che l'inval si mette a disposizione l'unione invece del dataset tra il ministero dell'istruzione del merito e il dataset invalsi a livello di codice meccanografico istituto invece non è un'operazione operabile dall'esterno questo qua praticamente se non previo consenso delle scuole che devono dare il consenso insomma per utilizzare i dati magari su con altre finalità rispetto a quello su cui sono stati raccolti perché anche diciamo rendere i dati potrebbe esporre le scuole a questo sistema insomma di graduatorie o altri tipi di messa a disposizione del pubblico dei dati che comunque possono urtare in qualche modo la sensibilità dell'istituto delle scuole e riandiamo un pochino più nel dettaglio sui sistemi GIS come dicevamo quindi ci stiamo riferendo ai dati scolastici georeferenziati nel nostro contesto e al sistema di zone che le agenzie delle entrate mette a disposizione ma i sistemi GIS permettono di utilizzare e quindi ampliare lo spettro di analisi su diversi tipi di dati diciamo diversi dai formati tabellari ma diciamo formati geografici e qui c'è un po' un esempio della varietà che può andare diciamo dalle strade quindi dalle tratte stradali magari siamo abituati con i nostri navigatori satellitari che utilizzano appunto degli strumenti GIS a un sistema di zonizzazione oppure un sistema di raster territoriali oppure anche un come dicevamo un sistema diciamo di coordinate geografiche queste fonti dati come vedremo poi nei dettagli tecnici che esporrò in seguito possono essere con degli opportuni strumenti software combinati tra di loro e la combinazione di questi dati tra di loro può permettere diciamo di ampliare l'analisi a dei dati che per loro natura non si presentano come dati tabellari e quindi dati che siamo abituati ad analizzare la prima fase quindi è stata quella una volta individuata gli indirizzi scolastici quelli della geocodifica dei dati stessi questa fase ha richiesto diverse operazioni la prima sicuramente per chi ha avuto modo insomma anche di vedere i dati che vengono messi a disposizione del pubblico insomma non tutti gli indirizzi scolastici cap sono immediatamente a disposizione ma è necessario diciamo un lavoro per eliminare su alcuni indirizzi o su alcuni indirizzi specifici di ricostruzione su questo anche lì diciamo alcuni strumenti software ci vengono in aiuto però diciamo volevo dare anche diciamo visibilità di questa prima fase di lavoro sicuramente importante per poter ottenere un risultato cioè che è stato quello di geolocalizzare più di 3100 scuole sicuramente diciamo i dati è stato c'è stato bisogno di un lavoro preliminare di data cleaning una volta diciamo trovati questi questi indirizzi geografici diciamo completi quindi senza informazioni mancanti che potevano portare confusione nel sistema di geocodifica che abbiamo utilizzato abbiamo utilizzato un sistema API ossia un servizio messo a disposizione da questo fornitore diciamo di software che permette di passare da delle informazioni sull'indirizzo geografico CAP indirizzo e comune a delle coordinate geografiche una volta ricevute questa risposta da questi servizi chiamati attraverso un apposito url che poi vedremo è stata necessaria un'operazione di verifica ossia diciamo che effettivamente quello che fosse le coordinate geografiche fossero congruenti con la collocazione geografica della scuola o quant'altro questo spesso può avviene nel 99 98 per cento dei casi però in alcuni casi proprio per specifica non corretta dell'indirizzo scolastico oppure per tantissimi altri aspetti tecnici è possibile che l'operazione di codifica non che è un'operazione massiva diciamo per sua natura in alcuni casi potrebbe non essere andata a buon fine in casi in casi come questi diciamo è necessario quindi riandare puntualmente a verificare questi errori di geocodifica anche mappando diciamo gli istituti e diciamo avendo a disposizione anche altre informazioni che ci fanno fare questo tipo di vestire qui e poi eventualmente correggere gli errori di geocodifica e queste fasi ci hanno permesso di arrivare al 100% di edifici scolastici nel nel meridione diciamo geocodificati in maniera in maniera congruente con quelle che erano le informazioni che avevamo a disposizione e più nel dettaglio la geocodifica quindi partiva da alcune informazioni che provenivano dal dataset del MIM quindi diciamo un indirizzo scolastico un cap e un comune da questo indirizzo scolastico cap e comune è stata creata questa richiesta che abbiamo poi veniva inoltrata al servizio col metodo get e attraverso questa richiesta riceviamo come risposta le coordinate geografiche dell'indirizzo scolastico il dataset completo poi integra queste coordinate geografiche con i dati dell'agenzia delle entrate ed è sostanzialmente un'intersezione un'intersezione tra dei dati territoriali che vengono forminiti in formato shape file quindi abbiamo a disposizione delle mappe che l'agenzia delle entrate mette a disposizione in cui ci sono delle zone mappate in questo caso in questo esempio semplificato che ho denominato A, B e C e attraverso dei software appunto che permettono di integrare dei sistemi GIS tra di loro è stata possibile fare questa intersezione spaziale attraverso questa intersezione spaziale tra i punti che nel nostro caso sono le scuole e le aree geografiche quindi questi poligoni che sono i dati invece messi a disposizione dall'agenzia delle entrate è stato possibile creare un dataset completo quindi diciamo ritorniamo a un nostro familiare formato tabellare in cui ad ogni zona ad ogni codice scuole corrispondeva un'opportuna zona e una corrispondente zona del dataset dell'osservatorio del mercato immobiliare ogni scuola era associata a un sistema di coordinate geografici individuato nel passaggio preliminare e poi diciamo tutte le altre informazioni vengono poi aggiunte a questo dataset completo e quindi diciamo abbiamo potuto in questo modo mettere insieme diversi contesti quindi quello che in maniera esemplificativa abbiamo chiamato il contesto degli apprendimenti che utilizza i dati invalsi il contesto scolastico inteso diciamo come tutte quelle altre informazioni che necessariamente possono essere a disposizione solo il ministro dell'istruzione del merito e non nostro e poi i dati sul contesto territoriale e quindi le diverse dimensioni contesto familiare esidi scolastici delle rilevazioni inizionali contesto scolastico e contesto geografico in cui la scuola si trova che abbiamo visto in questo dataset sono state cercate di sintetizzare attraverso un indicatore sintetico di difficoltà l'obiettivo di questo indicatore sintetico è quello di individuare delle scuole in situazioni di difficoltà e non solo scuole ma anche potenziali reti di scuole caratterizzate da valori alti e quindi segnali forti di questo indicatore di difficoltà cercare di mapparle all'interno di una piattaforma creata ad hoc per questo tipo di lavoro e poi diciamo suggerire queste scuole o queste reti di scuole come potenziali scuole su cui focalizzare l'intervento andando un pochino più del dettaglio il contesto familiare è misurato in funzione sia dell'SCS quindi della condizione socio-economica ma anche della percentuale degli allievi con genitori disoccupati questa è una dimensione che abbiamo deciso di tirare fuori dall'SCS per dare diciamo ancora più forza a una dimensione che riteniamo in questo contesto potesse essere centrale per per individuare eventuali altri segnali di disagio su queste dimensioni gli esiti scolastici standardizzati e quindi la percentuale di allievi all'interno degli edifici scolari degli istituti scolastici che hanno degli esiti particolarmente bassi nelle competenze sia nelle singole discipline ma poi come vedremo anche in tutte le discipline prese insieme attraverso la dispersione implicita e il contesto scolastico che come sottolineiamo poco fa può essere declinato in una serie di indicatori che va dal numero di abbandoni fino a l'assenteismo all'interno degli istituti degli istituti scolastici quindi questi tassi in numero di aggiorni di assenza e poi invece il contesto geografico si riferisce sostanzialmente al prezzo medio degli alloggi al metro quadro in cui la scuola si trova e infatti per ogni semestre l'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate mette a disposizione queste informazioni e quindi i prezzi di compravendita degli alloggi per sia stato di conservazione dell'alloggio sia per tipologia d'alloggio diciamo per semplicità e per non aumentare la complessità dove non ritevamo che potesse essere troppo diciamo importante in questo contesto abbiamo considerato solo gli alloggi utilizzati a scopo abitativo e in buono stato di conservazione come indicatore di prossimità della condizione economica delle zone all'interno delle quali gli istituti hanno sede l'indicatore sintetico è stato calcolato in diversi passaggi il primo passaggio è sicuramente quello del calcolo dei valori grezzi del singolo dei singoli indicatori quelli che abbiamo visto a livello macro nella slide precedente per intenderci come seconda fase ad ogni indicatore è stato attribuito un punteggio che va da 0 a 1 in base a delle soglie fissate tramite percentili quindi diciamo che sono stati individuati all'interno di ogni singolo indicatore delle soglie a partire dai percentili e in base diciamo al valore se la singola scuola era sopra al centro di questa soglia al di sotto di questa soglia gli è stato attribuito un punteggio sulla base di quell'indicatore una volta ottenuti questi punteggi sono stati sommati i diversi punteggi grezzi sulle diverse dimensioni prese in esame quindi diciamo che sostanzialmente un valore di uno dell'indicatore è un segnale forte di difficoltà su quella dimensione specifica un valore diciamo magari intermedio è un segnale un pochino più debole rispetto a questa cosa qui e siccome non tutte le scuole hanno tutte le informazioni del dataset completo per diversi motivi la somma dei singoli punteggi è stata poi divisa a partire dal numero degli indicatori disponibili il numero degli indicatori disponibili come vedremo più in là però è stato presso come ulteriore parametro per andare a cercare diciamo di suggerire una decisione verso alcuni istituti scolastici rispetto agli altri quindi abbiamo alla fine diciamo una volta effettuati questi passaggi a disposizione due dati un indicatore sintetico di difficoltà che sintetizza tutte le dimensioni dei singoli indicatori grezzi e dall'altra abbiamo il numero di indicatori disponibili per l'istituto in questione e questo per tutti gli istituti del meridione un esempio della modalità di calcolo l'ho fatta diciamo semplificando nominando tre indicatori indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 abbiamo fatto gli esempi di questi tre istituti scolastici in cui per il primo istituto scolastico per il primo indicatore per l'indicatore 1 e per l'indicatore 2 ci sono dei segnali forti di difficoltà infatti assume valore 1 il terzo indicatore non disponibile quindi diciamo nel calcolo poi dell'indicatore sintetico il denominatore riporterà un valore 2 abbiamo fatto vedere qui anche in questo esempio semplificato come i criteri della soglia possono variare tra un indicatore e l'altro e quindi la scelta del percentile sia perché la dimensione del segnale cambia a volte praticamente un valore più alto dell'indicatore grezzo può andare a dare un'indicazione di difficoltà altre volte invece accade il contrario quindi sia per la direzione del segnale ma al tempo stesso anche diciamo dalle distribuzioni dei singoli indicatori quindi dallo studio delle distribuzioni di singoli indicatori è stato utile a volte per riparametrare le soglie per cercare di individuare diciamo una situazione che potesse cercare di descrivere effettivamente una condizione di disagio mantenendo invece le soglie fisse questo tipo di ragionamento e questo tipo di lavoro non sarebbe stato possibile gli indicatori di difficoltà più del dettaglio lo vediamo all'interno del contesto familiare background utilizziamo direttamente l'indicatore di background socio-economico poi vedremo in una slide successiva le diverse dimensioni da cui viene composto questo indicatore di background socio-economico e quindi quale tipo di difficoltà sta andando a catturare una percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati abbiamo deciso quindi di estrapolarlo e di considerarlo come un indicatore a sé stante non solo all'interno dell'indicatore SCS poi per quanto riguarda gli assiti scolastici oltre ai punteggi standardizzati nelle diverse materie che compongono cioè diversi gradi scolastici è stato considerato anche un diciamo un dispersione implicita però inteso in senso esteso come non cioè perché per il grado 13 diciamo la definizione calza-pennello con quello di dispersione implicita per i gradi 5 e 8 invece è un indicatore di non raggiungimento dei traguardi previsti per quel determinato grado scolastico secondo il quadro comune europeo per le lingue per quanto riguarda l'inglese listening e reading invece diciamo i quadri di riferimento di italiano e di matematica per quanto riguarda le altre due discipline e il contesto scolastico abbiamo visto che non abbiamo considerato il numero di studenti iscritti tra l'uno nell'altro ma l'abbiamo inteso in termini di variazione quindi di perdita di iscrizioni sia tra il primo ciclo di istruzione la primaria e la secondaria di primo grado sia inteso diciamo nell'iscrizione a un ciclo di istruzione il tasso di abbandono scolastico che abbiamo visto che va a completare anche l'indicatore di dispersione implicita e il numero di giorni di assenza e quindi diciamo in questo caso abbiamo considerato la media del numero dei giorni di assenza all'interno della scuola delle diverse scuole perché ovviamente tutti gli indicatori sono stati aggregati a livello di scuola e il prezzo di compravendita degli immobili al metro quadro si riferisce quindi al prezzo di compravendita degli immobili al metro quadro della zona dell'osservatorio del mercato immobiliare in cui la scuola è localizzata e quindi più nel dettaglio abbiamo deciso di focalizzarsi sull'indicatore scs per diciamo andare a cercare di esplicitare quelle che sono le dimensioni di disagio di difficoltà che va a cogliere a livello macro praticamente abbiamo tre elementi che concorrono alla formazione dell'indicatore scs il primo è lo stato socio occupazionale dei genitori e qui lo vediamo nell'esempio nella prima casellina in alto a sinistra e anche diciamo il titolo di studio quindi dei genitori e va anche per alcuni beni materiali di possesso e quindi sostanzialmente su questo ci riferiamo ovviamente al singolo studente e poi ovviamente l'indicatore è una media dei valori scs legati al singolo studente e questi qui invece sono più che altro un quadro riassuntivo degli esiti scolastici standardizzati quindi diciamo rimarcando la dimensione sensuaria dal 2009 al 2010 su tutti i gradi scolastici e quindi diciamo la dimensione temporale è importante perché potremmo potenzialmente diciamo fare questo tipo di lavoro qua su diversi anni scolastici anche antecedenti al 2022-23 e quindi per andare ad individuare quei segnali temporali che si perpetuano nel tempo questi sono invece i gradi scolastici e gli ambiti che abbiamo abbiamo grossomodo riaggiunto e quello invece è il dettaglio territoriale minimo che ci è disponibile una volta che nelle campagne di rilevazioni nazionali e quindi quelli che sono i dettagli territoriali che avremo a disposizione diciamo già nelle nostre basi dati all'interno dell'istituto e un'altra cosa su cui ho deciso di fare un ulteriore focus è quello della dispersione implicita che viene utilizzato anche questo diciamo come dicevo intesa per questo lavoro in senso esteso quindi come non raggiungimento di determinati traguardi al termine di un determinato grado scolastico e qui praticamente questo livello 3 questo livello B1 sono le soglie che non vengono raggiunte che concorrono poi al calcolo delle percentuali all'interno del di ogni singolo di singolo scolastico quindi l'indicatore grezzo sarebbe la percentuale di studenti all'interno dell'istituto scolastico che non raggiunge sia il livello 3 in italiano e matematica ma non raggiunge il livello B1 in inglese questo per quanto riguarda il grado 13 ovviamente le soglie soprattutto per inglese cambiano e anche diciamo la dichiarazione di traguardi spostandoci da un anno scolastico all'altro il fenomeno della dispersione implicita è tutt'altro trascurabile si somma inoltre a un altro fenomeno molto rilevante nel nostro paese come possiamo vedere diciamo e questa somma di dispersi impliciti espliciti in Italia è superiore al 20% quindi uno studente su 5 può ritenersi disperso o implicitamente o a livello esplicito il contesto territoriale qui ho riportato un esempio del comune di Roma per dare un'idea del dettaglio territoriale su cui queste informazioni si articolano il comune queste sono le zone home quindi dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia dell'entrata all'interno del comune di Roma e sono 313 zone quindi diciamo pure per quando magari dicevamo che volevamo superare il concetto di unità amministrativa qui stiamo andando molto stiamo ponendo la lente ancora diciamo un pochino più a fondo stiamo andando molto nel dettaglio territoriale e diciamo soprattutto per le metropoli oppure per le città grandi che sono state poi oggetto anche di un altro lavoro che abbiamo portato avanti questa rappresentazione della varietà del contesto territoriale sicuramente è un valore aggiunto per la comprensione del contesto territoriale soprattutto come dicevamo nelle grandi città e in dei contesti piuttosto articolati infatti se qui sopra si pongono come gradazione di colore quello del prezzo di compramenti dagli immobili dell'osservazione delle agenzie delle entrate vedremo che anche zone molto vicine collocate in delle parti di territorio all'interno della stessa città hanno diciamo delle quotazioni del mercato immobiliare quindi potenzialmente delle condizioni economiche di descrizione del contesto territoriale molto dissimili tra di loro che considerando diciamo anche solo il capo oppure altri tipi di aggregati anche minimi sicuramente sfuggono dall'osservazione questa qui invece è la piattaforma poi di visualizzazione dei dati che abbiamo costruito a partire dall'indicatore grezzo dalla geolocalizzazione e quant'altro quindi sostanzialmente abbiamo messo insieme questi dati li abbiamo plottati su questo grafico ma abbiamo deciso che questa mappa doveva essere interattiva perché chi diciamo deve andare ad analizzare il fenomeno chi deve andare a capire praticamente quali quali reti di scuole o quali singoli istituti andare a casa deve avere la possibilità insomma di parametrare quelle che sono le dimensioni che lui stesso ritiene diciamo a fini analitici più rilevanti qui per il momento a scopo semplificativo abbiamo portato alcune delle dimensioni quindi l'indice sintetico di difficoltà il numero di indicatori una discretizzazione dell'indice di difficoltà a partire insomma dai percentili che sono stati osservati e anche i livelli dell'istituto perché se volessimo andare ad individuare diversi livelli scolastici potremmo farlo attraverso diciamo uno strumento di questo tipo diciamo quindi questo strumento diciamo non si esaurisce sicuramente qua è esemplificativo di come la mappatura dei punti sul territorio e l'integrazione di questa mappatura con l'aggiunta di ulteriori parametri possa aiutare ad individuare sia diciamo singole scuole sia reti di scuole all'interno all'interno del territorio giocando sui colori sulle dimensioni o su questo sistema di filtri però diciamo che queste dimensioni sono tutt'altro che bloccate perché poi in base diciamo al contesto specifico d'applicazione al contesto specifico su cui si vuole fare analisi possono essere riperimetrate le diverse dimensioni che possono essere messe all'interno di uno strumento di questo tipo che può essere messo poi diciamo come strumento anche poi di policy può essere messo a disposizione e questa qui invece oltre per la provincia di Napoli ho deciso di fare un focus in cui oltre a mostrare i punti all'interno della mappa ho rappresentato anche quelle zone dell'osservazione del mercato immobiliare utilizzando la gradazione di colore per andare ad individuare quelle che sono le zone in cui il prezzo al metro quadro è più alto e quindi praticamente vediamo magari in questo caso si concentrano soprattutto sul comune di Napoli su qualche isola e i valori più alti ovviamente e in questo caso quindi teniamo conto di più dimensioni la dimensione scolastica attraverso la grandezza del puntino che viene plottato all'interno della mappa l'intensità del segnale che viene dall'indicatore sintetico di difficoltà attraverso il colore che va da un colore più chiaro a un rosso più scuro e il contesto economico quindi territoriale che delle zone dell'osservazione immobiliare che viene fuori invece dalla gradazione di colore all'interno della mappa a questo punto diciamo nel lavoro che abbiamo portato avanti abbiamo individuato dei parametri che sono sostanzialmente un indicatore di difficoltà pari a 45 e un numero di segnali quindi un numero di indicatori disponibili per l'istituto stesso pari a 25 perché a quel punto diciamo avevamo una situazione di difficoltà non solo alta rispetto ai singoli indicatori ma anche perpetuata su più dimensioni questo lavoro qua ad esempio ci permette se consideriamo una regione come la Calabria di giungere a un insieme a un sotto insieme di scuole rispetto a tutte quelle che vedevamo plottate all'interno del grafico e quindi una volta individuate queste scuole in condizioni alte di difficoltà possiamo ragionare anche sulla prossimità geografica tra queste scuole e la mappatura di queste informazioni ci permette di farlo la mappatura come abbiamo visto ci da tantissime ci permette diciamo di fare questo lavoro qua e vedere i dati già solo mappati sul grafico permette diciamo di analizzarli quindi di cercare di comprenderli però diciamo che la geolocalizzazione i sistemi GIS non permettono di fare solo questo quindi di individuare delle scuole attraverso ponendo diciamo l'accento su determinati tipi di parametri che sono stati calcolati ma a partire magari dalla matrice anche delle distanze si aprono una serie di scenari che permettono di ampliare il raggio di analisi non solo diciamo ai modelli classici che siamo abituati a visualizzare utilizzando dei dati tabellari ma anche diciamo determinati tipi di modelli che utilizzano la matrice delle distanze e quindi magari questa forma di autocorrelazione tra le unità all'interno delle fonti dati che è quella insomma di prossimità geografica perché diciamo le scuole più vicine possono avere caratteristiche territoriali più simili rispetto a scuole più lontane e quindi diciamo a partire dalla matrice delle distanze possiamo utilizzare un'altra serie di metodologie diciamo che ampliano lo spettro di analisi e quindi danno nuove possibilità e infatti diciamo questa cosa qui l'ho rimarcata in questa slide conclusiva dei possibili sviluppi futuri gli indicatori possono essere quindi sicuramente ampliati utilizzando anche altri dati anche di natura GIS e penso ai dati censuari ad esempio dell'ISTAT che possono dare un'altra informazione su quello che è il contesto territoriale in cui la scuola opera ma si può anche calcolare la matrice delle distanze e a partire dalla matrice delle distanze da scuole si può ampliare lo spettro di modelli e di analisi che possono essere utilizzate per a partire diciamo proprio da un'analisi territoriale per dati GIS di questo tipo grazie di